Ben trovati a questo nuovo appuntamento con Tra le righe, consigli di lettura, siamo nella libreria Voce di Padre Pio a San Giovanni Rotondo, a pochi metri dal santuario di Santa Maria delle Grazie. Ci piace iniziare ogni puntata con un libro dedicato al Santo di Pietrelcina. Oggi andiamo, è il caso di dire, a ripescare negli scaffali di questa libreria un libro intitolato Padre Pio, maestro di devozione mariana, edizioni Padre Pio da Pietrelcina, firmato da Padre Angelo Pizzarelli, con una meravigliosa immagine del Santo di Pietrelcina in preghiera dinanzi al mosaico all'interno del santuario di San Giovanni Rotondo. Leggo in particolare, nella presentazione appunto di questo volume viene fatto riferimento all'occasione nella quale nacque l'idea di realizzare questo libro, un lavoro che vede la luce dopo la beatificazione di Padre Pio da Pietrelcina, parliamo del 2 maggio del 1999, e si ricollega perfettamente a quello che disse l'allora Papa Giovanni Paolo II, oggi San Giovanni Paolo II, in quella indimenticabile giornata appunto in piazza San Pietro, e poi ricordiamo anche che il Papa andò in piazza San Giovanni in Laterano, dopo la cerimonia principale venuta in piazza San Pietro. In quell'occasione, in piazza San Giovanni in Laterano, Giovanni Paolo II disse Padre Pio ci invita in particolare ad amare e venerare la Vergine Maria. La sua devozione alla Madonna traspara in ogni manifestazione della sua vita, nelle parole e negli scritti, negli insegnamenti e nei consigli che dispensava i numerosi figli spirituali. Autentico figlio di Francesco D'Assisi, dal quale aveva appreso a rivolgersi a Maria con splendide espressioni di lode e di amore. Il nuovo beato non si stancava ad inculcare nei fedeli una devozione alla Madonna tenera, profonda e radicata nella genuina tradizione della Chiesa. Nel segreto del confessionale, prosegue in quel memorabile discorso Papa Giovanni Paolo II, come nella predicazione tornava ad esortare amate la Madonna. Alla conclusione della vicenda terrena, nel momento di manifestare le sue ultime volontà, egli rivolse il suo pensiero, come aveva fatto per tutta la vita a Maria Santissima. Amate la Madonna e fatela amare. Recitate sempre il Santo Rosario. Ebbene, potremmo dire, ragionveduta, che queste parole dell'allora Papa Giovanni Paolo II possono davvero rappresentare una sintesi del libro di padre Angelo Pizzarelli, il quale è un largo commento dotto e documentato alle parole del Papa. Infatti, il libro è composto da cinque capitoli in cui l'autore illustra tutto l'argomento, tutta la problematica, potremmo dire, della devozione mariana del nuovo beato. Mi ha colpito un passaggio e lo condivido con voi. A pagina 144 l'autore scrive Maria è presenza viva nella vita di padre Pio da Pietrelcina. A lei raccomanda con fiducia a se stesso e a lei consiglia di ricorrere in tutte le necessità. La mediatrice di tutte le grazie non delude mai le aspettative dei suoi devoti e nella sua materna carità si prende cura dei fratelli del figlio suo ancora pellegrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni, fino a che non siano condotti nella patria beata. Un libro che vi consiglio di tenere sul comodino. Magari non leggere dal primo all'ultimo capitolo, diciamo appunto i capitoli sono cinque, ma magari andare a prendere dei passaggi interessanti, belli, che magari possiamo fare più nostri della vita, ma soprattutto della devozione mariana del santo di Pietrelcina. Firmato da padre Angelo Pizzarelli, edizioni padre Pio da Pietrelcina, lo riconoscerete dal fondo blu e da questa bella immagine in copertina, padre Pio maestro di devozione mariana. Don Diego Goso, un sacerdote molto simpatico, amante della scrittura, infatti ha pubblicato diversi libri che abbiamo avuto modo anche di presentare in collegamento Skype con lui, firma questo libro edito dalla San Paolo intitolato Controcanto, la fierezza di essere ancora cattolici. È una specie di libro intervista in cui apporre le domande e Don Diego a rispondere Monsignor Antonio Suetta, vescovo di Ventimiglia e Sanremo. specificano diocesi di mare e di festival. E dunque in questo libro vengono proposti, proprio a mo' di conversazione e di colloquio, una serie di temi oggi, di riflessioni, su temi oggi molto sensibili per la Chiesa italiana e non solo. Da un punto di vista privilegiato, quindi quello di un vescovo che sta interincea, potremmo dire, tra il confine, tra Italia e Francia. Ventimiglia potremmo dire essere l'ultimo paese, l'ultima città prima del confine francese. È uno dei luoghi, Ventimiglia, dove il tema dell'immigrazione è particolarmente sentito. Monsignor Antonio Suetta, appunto il vescovo di Ventimiglia e Sanremo, è balzato agli onori della cronaca per aver preso una posizione molto forte e netta in difesa dei migranti respinti al confine francese. In questo libro, sempre anche un po' con l'ironia che caratterizza Don Diego Goso, è un libro lucido, onesto, capace di provocare la coscienza cattolica. Tra queste pagine il vescovo di confine esprime per la prima volta in maniera piena ed articolata il proprio pensiero, quello di uomo, credente, pastore, che non smette di cercare una prospettiva per riflettere sui vari temi della vita ecclesiale, dell'etica sociale e cristiana. Ecco perché la fierezza di essere cattolici, lo dimostra questo vescovo. Ci sono diverse domande, appunto, che Don Diego Goso pone all'intervistato e infatti specifica anche il fatto che questo libro non è un libro intervista, almeno non è nato così, però poi un po' lo è diventato. In questi tre anni, dice Don Diego, in cui ho avuto modo di lavorare per la diocesi di Ventimiglia Sanremo e poi per la diocesi di Torino, ho incontrato più volte il vescovo e con lui ho scambiato delle lunghe chiacchierate, conversazioni raccolte, appunto, in questo libro. Si parla del mistero sacerdotale, quindi di temi cari ai due protagonisti del libro, il mistero sacerdotale che è un po' il motore delle comunità parrocchiali. Hanno discusso insieme di cronaca internazionale, si sono addentrati anche sul terreno della morale, ma soprattutto, dice Don Diego, abbiamo parlato di chiesa. Qui credo che Monsignor Suetta offra il meglio del suo magistero, esponendo con entusiasmo la fierezza di essere cattolici, di vivele l'ortodossia della fede senza rigidismi, ma anche senza cedere a compromessi. E poi, alla fine, hanno anche un po' scherzato sul festival di Sanremo, che fanno emergere un po' l'uomo anche vescovo. Si è parlato anche dei gusti culinari, musicali e letterari. Quello che mi ha colpito anche di questo libro, lo condivido con voi, sono i sei titoli con i quali l'autore ha deciso di chiamare i vari capitoli. Cronache dal dopobomba, sacerdoti per la chiesa di oggi, un vescovo di frontiera, dalla parte della vita senza sé e senza ma, la profezia della chiesa, e poi l'ultimo capitolo in cui appunto emerge l'uomo vescovo strettamente personale. Un libro che vi consiglio perché è davvero interessante, e ogni cattolico, ogni cristiano, ma anche ogni uomo e donna di buona volontà possono davvero cogliere spunti di riflessione molto interessanti. La fierezza di essere ancora cattolici, controcanto, edizioni San Paolo, firmato da Don Diego Goso con Monsignor Antonio Suetta. Concludiamo con un libro di storie, non poteva mancare Bruno Ferrero anche in questa puntata, con un titolo che davvero aderisce bene al momento che stiamo vivendo, è di notte che si vedono le stelle. Piccole storie per l'anima di Bruno Ferrero, questa è la copertina del libro, ne leggo una intitolata L'uomo meticoloso. C'era una volta un uomo che si vantava di essere il più organizzato del mondo, non lasciava mai nulla al caso. Al mattino, al momento di alzarsi, la necessità di cercare i vestiti sparsi gli pesava talmente che alla sera, prima di coricarsi, lo spaventava già la sola idea di doverlo fare. Una sera finalmente si fece coraggio, prese carta e penna e si segnò dove avesse lasciato ogni singolo capo di vestiario. Al mattino si svegliò tutto baldanzoso, prese il foglio e l'esse. Il berretto si trova là e lo prese, i pantaloni sono messi lì e li prese, e così via, finché non ebbe recuperato tutto. Ma in quell'istante lo folgorò un pensiero. Già, ma io dove sono? Cerca cerca non si trovò. E' un insegnamento, scrive nell'aggiunta che su Ogni Storia fa Bruno Ferrero, è un insegnamento che vale per molte persone. Sanno quale vestito mettere, come muoversi, come lavorare, come presentarsi agli altri, ma ignorano la propria vera identità. Non hanno alcuna coscienza e consapevolezza di sé. E così trascorrono anche in maniera inconsapevole la loro vita nel mondo, senza realmente accorgersi di sé, degli altri, della natura. Vivono come capita. Con questo messaggio, tratto dal libro di Bruno Ferrero, è di notte che si vedono le stelle, piccole storie per l'anima. Vi ringrazio per averci seguito anche in questo appuntamento. Vi do, come sempre, se lo vorrete, appuntamento alla prossima settimana, con una nuova puntata di Tra le righe consigli di lettura. Grazie a tutti.